Va bene Qua c'è una porta Non si apre Beppe Beppe c'è solo una cosa da fare Brucia brucia Esatto L'infermiera è brutta e l'infermiera è attiva Ah cazzo quel vento vale Tutte le facce di cazzo di que Non ho modo di aiutarli Le bocche le bocche manda via le anime di altre vittime Eh però raga No raga però così mi viene infarto C'è lui ogni tre secondi così Destro o sinistra quando Eh boh io sono andato a sinistra Boh davvero anche a sinistra Cioè sinistra mia ovviamente Boh adesso andiamo a vedere Vediamo cosa succede Sono salito nelle scale Cos'è cos'è Pazzesco oscurità Poi lì si illumina qualcosa Non capisco Allora qua c'è la prima faccia Dai Ecco dove è morta Ok Ma qua ogni tanto Tipo il controller mi ha Quelle mani di Cristo Ma niente ogni tanto perdi Perché vibra così tanto qua Sta vibrando Con L1 vibra Sì Tipo in questo posto qua Mi vibra in una maniera pazzesca Perché Qual è il problema Ah però ti fa uscire C'è uno specchio Non sto giusto E' qui che è morto Eh va bene Ok Io ancora nemmeno il suo nome Se solo potessi vedere l'altra parte D' questo posto Le mani Qua non mi ricordo Ah là Quello là Forse è uno specchio Esatto Se tu Da lì La stessa strada Ti troverai in una sala conferenza Adesso stiamo facendo La stessa strada Ma perché vibra così Sta merda Di controllare La fa apposta Ah tra l'altro Minchia Mi sono reso conto Ora che Il microfono Mi aveva preso Tutte le vibrazioni Del controller Bottana La macchina Ecco Eh vabbè Andate così Sì anche tu Non è stata conferenza Ah ma siamo tornato qua Pronto E' da C'è altro tenere Il voto è about to start Tu sai cosa dicono Se sei early Sei in tempo Eh eh No Non mi chiedo Ora ora Posso sentire Sì 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 Spero di sapere La conferenza Però non c'è un cazzo Ha fatto il telefono Eh intanto Ho una faccia Di cazzo E qua non c'è una minchia Guarda Una roba che mi spiace Un po' È il fatto Che io debba girare Con l'L1 Attivato Perché sennò Ti perdi le pose Questo mi dà un po' In culo Devo essere onestissimo Questo proprio un pelo Mi dà nel culo Mi rovina un pelo Non c'è un'intuizione Non da qua Qua 05 04 Qua c'è un eco Eh che cazzo Non avevo attivato Il L1 Non è in culo Aspetta C'è un eco Aspetta Mi hanno messo davanti A Boris Allora Stiamo calmi Lo hanno messo Di fronte A Boris Siamo calmi Se l'hanno messo Di fronte a Boris Boris dove Cazzo è Boris è il numero 9 Quindi Andiamo a vedere Dove è il 9 5 7 Se è di fronte Al 9 Penso sia Il numero 1 Esatto Niente È il numero 1 Raga L'ho già risolto L'inigma Pariaka Weldarmar Niente Devo andare Per forza Ad andare A vedere A parte che ero al 4 Non ero al 1 Raga Niente Vabbè però raga Non seguono un ordine Allora stai sedi di merda Mi prendete per il culo E allora Il numero 4 Era Nicholas Mio fratello Ok Nick Come al solito Salvataggio Presagio di sventura Vabbè Quindi tendenzialmente Stiamo tornando nello specchio Esatto Buon Beppe Ti sento provato Da dove ci viviamo Da dove ci viviamo De porco No È un problema È un problema Allora Quando ti prende Quando ti prendi in questo mondo Ovviamente Non puoi usare la luce Capiamo Che cazzo devo fare ragazzi Io devo Perché Non Però non si Non trattene respiro da me Che cazzo Non trattene respiro da me Quali hai già Appertato a tenere respiro L1 No Devi premere la levetta Destra Allora Vieni qua dentro Spaccacoglioni La rivetta destra Ma che cazzo Facciamo quelli di Death Stranding Porca coia Meno male che C'è i checkpointi vicini Ma raga C'è un problema È scomparso Si è buggato Che minchia succede Si è buggato Scomparso Mentre parlava È scomparso Non mi dici più dov'è Vabbè Vabbè Io Io ce l'ho Un po' dietro No è scomparso da me Si è buggato Totale Bug totale No io lo sento camminare Così mi rovini un po' l'esperienza Così non si fa Io lo sento camminare No adesso è scomparso anche a me Perché per me Lui ti cerca poco Sarà Vado a tornare indietro Ma adesso me lo trovo anche qua La domanda è Spero di no raga Perché Vabbè qua c'ho la luce Per scappare Qual era il tasto Per sparare A fresciargli La luce in faccia Non me lo ricordo Dove fosse R2 Allora dov'è la faccia di sto Cristo E boh Sbocca Guarda Raga cambiano la telecamera però Allora Questo qua è Nipalos Mio fratello Nicholas vai Grazie madame Ok Un'altra 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 Eh Sbocca Sbocca Nipalos Non in questo mondo Non in questo mondo Vabbè Mio fratello Sbocca Comrade Comrade Attenzione Examine Room Che avete l'amburatorio Esatto Vabbè Sto andando nella parte opposta Delle farfalle Però Tendenzialmente Qua Vista panorali Tesoro Mi manchi tanto Spero che presto Potrai essere qui con me Il posto ti piacerebbe molto Quindi è bellissimo Il sole splende Il lago è stupendo E le persone sono gentili Gentili e morte Tutte Con amore Francesco Eh Ma che vuol dire Sto i gentili e morte Gentili e morte Tutte 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 Raga Eh Dio fa Va bene Prima non era un bug Era proprio il fatto Che se tu sei bravo E sei in silenzio Lui dopo un po' va via Perché non ti trovo Ma è scomparso Non è andato via È scomparso di botto A metà frase Ha smesso Ah boh Allora quello è un bug Sì 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 è una metà frase Se non è un bug Vuol dire che È solo fatto male Non so cos'è meglio Io Allora La frase Era completata Però Atteso Lui dice Io c'è uno specchio Ma lui dice di proseguire A meno che non abbia Nell'ansia Non ho visto male io Me lo rivedrò nel video Però Allora fondamentalmente Qua la scelta Dice di andare Ma C'è un burrone C'è il terreno C'è il pavimento Tutto friabile Sì bisogna andare dall'altra parte Però prima Io volevo esplorare qui Bisogna andare dallo specchio Più che altro Non tanto Non posso più Oh ok Bisogna andare dallo specchio Sì 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 Devi entrare nello specchio Che non ci vuoi entrare nello specchio Eh raga Andata così Cioè comunque Stai riuscendo benissimo A non farmi C'è C'è l'ansia C'è l'ansia Si sente che c'è l'ansia Io un po' meno Però quando arriva Quell'altro a spaccare il cazzo Giustamente Perché tanto il gioco è quello Piano piano Ma sì Si arriverà lo scontro Con questo qua Per forza Eh ma con Ghostbusters però Con i fucili trotonici Perché come cazzo Qua sì Chi chiamerai Gesù Cristo Aspetta 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 Andate 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 Non so se camminare Tutto abbassato Come un coglione E lo so E lo so Che sei bastardo Ah qua non ti fa andare avanti E' proprio un po' ottimizzato E' proprio un po' ottimizzato Allora abbassiamoci E tappiamoci E' proprio un po' ottimizzato Non so Un po' ottimizzato I giochi sono finiti Tutta sola Ma poi questo è veloce porco Devi muoverti No non voglio un cazzo Dentro di lui In faccia Quella donna è stata qui Ci stavo riuscendo Non ho visto dove mi stava arrivando Mi sono andata adesso Vabbè adesso vi facciamo Vabbè stai calma nel senso Cosa vuol dire C'era quasi riuscito Cacchio sbagliato Vivian Tu sei riuscito? Sì sì Vabbè Ah però stava qua dal checkpoint Vabbè interessante Non te lo fai da capo il pezzo La chiamate nel Chiamate l'esorcista cazzo Satana qua rompe il cazzo Cammina piano Raga Pipol Vivian Just Vivian No Probabilmente solo un niente L'artista Formerly known as Vivian E qua Se era una battuta Non faceva ridere Ragazzi Niente Io devo entrare in un altro specchio Beppe T'aspetto E Spacca il DualSense La regina Del cazzo Stiamo entrando dentro Lo specchio dai Vai Via Adesso siamo nella stanza Però mi sa che qua Ci sarà il volto Quindi non passo ancora Nell'altro specchio Esatto Io ero mai Se l'immaginavo E Gesù Cristo Che Dovrebbe avere Ad occhio e croce Anni 33 Però questo qui E' un femminicidio Chiaramente Che strano Piacere Scannato No 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 Ma esatto C'ho già un secondo specchio Ma secondo me no No Di visto Seguire Dove l'è la maschera Vai un po' più Seguire Quel corrido Di tutti i posti Perché Cosa c'ha A sto posto Che posto è Che posto è Che sei No Fuori Chiaramente Un femminicidio Ma non ho capito Una cosa Quando vediamo Questi ricordi Sentiamo anche Le sensazioni Della persona Perché qua Che dice No Molto Non ho ancora un nome 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 Ma niente Entriamo nello specchio Per il nome Perché mi è perso Un paio di volte Ha fatto un paio di commenti Della serie No raga Preferivo evitare Ok Vivienne C'è da Spezzare questa camera Aveva scoperto anche il nome Questa qui sembra un po' Delle missioni secondarie O sbaglio C'è il Te vi vedi del gioco C'è il Dar pace a queste persone Sì Però mi sembrano Un pelo forzate Cioè sono secondarie Guidate Tendenzialmente Sì 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 Come dire Diciamo che se fosse stato Un gioco sviluppato Con più soldi Più tempo O magari anche più voglia Semplicemente Tu riusciresti a farmi Una maniera In cui puoi magari Andare avanti anche senza Ma se lo fai con Succede meglio Sai con le menate lì Allora io ho già individuato Il pezzo di pagina Ma voglio prima guardare Il cerchietto qua Sì È lietori È zitta Allora Sì 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 Cinque Otto Nove Ah vabbè Sembra di far analizzare Analizziamo Ciao 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 Sono dormiti? È bene Sì 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 Un grande giorno. Sì, grazie. Vi vedo a casa. Cissarli per me, ok? Non esattamente un caldo di passione. Sì. Sì, madre, lo so. Sto facendo il mio meglio. Cosa? No, io... Ma che cosa per il mio corpo? Non è sempre su te. Non mi chiami Victoria. Vieni che lo scopro. Victoria? Questo è un po' di me. Scoperto, ma non la vera. Sì. Certo. Non so se si è evoluta, ma due Ellie che si casano così. Ah, c'è una shortcut. C'è sempre la porta della stanza dopo che hai scoperto il nome, quindi non ti butti nel vetro, ti dovresti trovare nel corridoio dove c'è lo specchio, penso. È un lavoro stressante, penso. Raga, tanta roba capo del personale che puzza di vodka e mio fratello, palese me. Ehm... Oh, mio Dio, Ellie! La roba interessante è che non mi ricordo... No, 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 sono... Sono davvero felice di sentire da te. Perché non ti chiedi più di più? Hai fatto? Ah, sì, ok. Ma... Eugen... Non mi sto ricordando dove avevo quella fa... Ellie... Mi è tornata indietro a mettere questa faccia di cazzo. Eh, spero. Non bisogna essere un medium per vedere. Quindi... Se stessi parlando con Ellie, questo significa... Tori! È tu! È Gesù Cristo! Eugen, quella faccia di cazzo! Eugen, quella faccia di cazzo! Un nome è più di quello che tutti ti chiamano. Ah, sì? Mi ricordo che questa parte è abbastanza... Allora, è la di qua, se mi ricordo... Minchia! Tu sei rientrato nello specchio, praticamente, sì. Perché io penso di aver trovato una shortcut. Eh, sì, sì! Ma quella shortcut è entrata da quello specchio, dalla shortcut, no? Sono più vicino al... In teoria, sì. Io mi sto cagando addosso. Cioè, ma... Ok. Stavo... Ok. Ti aspetto... Non metto ancora la faccia, aspetto che arrivi anche tu a metterla. Sei sicuro di quello che dici, perché qua... Sì, 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 ci sono arrivato. X. Ti ricordi che c'era quel pavimento franato? Eh, eh, devo passare dal pavimento franato. Sì, esatto. Poi c'è lo specchio davanti, inti nello specchio. Mi sembra un po' risultato mettendo quella cursa di mente a buoni anni. Mi sembra un po' risultato che avevano continuare. Ora... Cioè, un'idea del genere con una ditta, con una casa di sviluppo che ai soldi viene su una roba allucinante. Potenzialmente. Eh, però io mo... Secondo me mi hai fatto fare una strada del cazzo, Beppe. Mi dici? Io ci sono arrivato. Ora tu... Mondo reale... Fai... Fai... Torni indietro, entri in quella porta davanti a te, rientri nello specchio... E... E poi sei praticamente davanti... Davanti alla... Alla faccia di cazzo di quella. Ok, ok. Ok, ok. Non so se sei del cazzo, però se mi hai evitato quello stronzo sono contento. Ok. Dimmi quando inserire e io ti aspetto. Io ho inserito, ho inserito. Ho inserito. Ho inserito. E' meglio che qui. Beh, ora coglile, però. Però non possiamo prenderle. E mo? E da dove cazzo vado? Però raga, mi hai scassato una minchia. Sono un po' confuso. Ah, c'è la porta qua di fianco, mi sa. Sì, ma adesso arriva quell'altro. Sicuro. Porca troia. E nello specchio... Dove siamo qua? C'è qualcosa qua, aspetta. Ah, c'è una lettera sul tavolo. Ok, una ragazza tranquilla. Il comportamento del signor Recovich è assurdo. Sono un'infermiera, non una bambinaia. Capisco che gli serve qualcuno che lo tenga ad occhio, ma ho già un mio bel da fare. Anche se ignorassi tutti i miei altri doveri, devo sempre prendermi cura del povero signor Tarkovsky. In ogni caso, provo a fare del mio meglio. Almeno la ragazza è tranquilla. Sta quasi sempre sulle sue. Amo a parlare con gli amici immaginari. Ma credo che sia normale alla sua età. A volte la sento che porta varanti intere conversazioni. E giurerei di aver sentito le voci di due persone diverse. Ha davvero un grande talento. Deve essere di famiglia. Siamo noi, per forza. Siamo noi questi qua. Palese. Allora... Io direi di andare... Qui dove tutto è iniziato. Aspetti, io qua per esempio ho trovato degli diecidi. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Quella cosa era lì. Era lì che ha fatto il suo primo uomo. Lì che ha sbagliato morto. E mi piace. Raga, però mi devi far leggere. Il mio povero, povero... Signor Tarkovsky, che ti è successo? Abbiamo i risultati dei test e non ci sono segni di danni al cervello o demenza. Eppure quando guardo i tuoi occhi vuoti e tristi, ho questa terribile sensazione che non ci sia nessuno di cambiare lo sguardo. Ma non temere, amore mio. Mi prenderò cura di te a qualunque costo. Mi assicurerò che tu sia più felice possibile. A 450 mg di... Droga. Praticamente qua è dove è iniziato tutto. Dove l'infermiera ha dato di matto. Ursula. È il tuo terzo preferito. Sei in là? Anche il spettacolo che ci hai lasciato? Spero di così. Perché io voglio che ti senti tutto. Porco di... Ecco. Non c'è più niente. Andiamo a prendere questi tronchesi. La nurse. È arrivata a lei prima. Ma... Perché? Ursula è la stessa... È la stessa che era innamorata ma non ricambiata dal vecchio. Te ricordi quella storia là? Potrebbe. Non mi ricordo il nome. Però andiamo sugli appunti. Magari c'è scritto. È di là del me? No, no. Altro. Boh, io ho preso le tronchesi. È qua però. È fucking finally. È time to get back to the day room. È... Non me lo ricordo. C'è zero proprio. Entra nella sala di creativa. E niente. Proviamo a tornare sui nostri passi. Senza entrare negli specchi. Eh, però non passo dal... No. Non passo dallo specchio. Provo a tornare proprio indietro. Aspetta, aspetta. Se qua c'è andato del tronchesi... Eh sì. Qua vicino, in teoria. So che adesso arriva quell'altro a spaccare la micchia. Sì. Sicuro. Ah, guarda. Niente. Tornando indietro c'è una porta da scassare. Ah, eccolo lì. Ok. Resident Evil, uguale. Ah, devi tagliare tu. Vabbè. Prendibilmente... L2 per L2. È carino che lo fai in più volte. Sì. Però potevano farmelo in maniera migliore. Il clac. Ok, Marianne. Vediamo che la sadness mi voleva dire. Spero che sia bene. Dio molto tristezza cosa voleva mostrarmi. Anche perché ha spaccato i coglioni, sta bambina di merda. Devo essere proprio... Onestissimo. Con voi. Sono nel posto giusto, ragazzi. Sì, devi scendere e prendere le scale. Ok, dei room. Sì, sì, sì. Perfetto. Ah, già che devo scassare... Qua c'è una roba da vedere. Vediamo. Ah, è quello di prima. Allora... Adesso arriva quell'altro. Ma è partito un video. Marietta? Supposta a te. Non mi tocare. Oh. Sì, però... Non mi toccare, per favore. Oh. Questa cosa mi ha fatto quasi. Cosa c'è? È venuto da una scusa. Dall'impotenza. 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 È come un angolo, ma più. Una volta che si è fuori, non potevamo stoppare. Non sono tutti, Marianne. Tutti i miei amici. Sei un'altra. È venuto da un poteco. Dall'impotenza. 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 E' la mia legenda. Non lascio fanno tanti. Sì. Ok. Hey. E ne vieni a parlare di questo paese. È il giorno che stavamo a giocare qui. Con Richard? È uno di te amici? Non, ma è stato smart. Forse può aiutare. È stato smart. Aspetta, è... Un'altra cosa succede con lui. Mi ricordo che lui è diventato... come un puppet. Oh no... Mi ricordo... Marianne... Non voglio vedere lui. Cosa? Cosa? Cosa ricordi? Non! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Sontri che hai mai raccontato. Ma svolgati con il mio, così che mi puoi mantenermi sicuro. Non! Non, Marianne! Mi ricordo. Mi ricordo? Perché... Mi riuscì? Bambini! Di me...